Il nostro ospedale verrà difeso. In questa riforma voluta dalla Regione non perderà nessuna delle sue eccellenze e dei suoi servizi. Questa ferma posizione è stata ribadita lunedì scorso dal sindaco di Asti, Giorgio Galvagno, intervenuto in provincia alla pubblica audizione della Commissione Consigliare e dell'assessore regionale alla Sanità. Un appuntamento importante che segna il cammino di una riforma passata sino ad oggi a suon di delibere di giunta, quella regionale si intende. Nell'incontro il primo cittadino ha ribadito la posizione dell'amministrazione circa la necessità di mantenere in vita i servizi di oggi, continuando a rimanere il punto di riferimento di massimo livello sul piano locale e regionale. La parola d'ordine è l'ospedale non deve essere ridimensionato. Quello che conta, quello che ho voluto dire pubblicamente è che noi abbiamo un ospedale, un ospedale nuovo e bello, che abbiamo realizzato con le forze della città e dello Stato. Noi vogliamo che lo standard raggiunto da questo ospedale non diminuisca neanche di un millimetro e siamo convinti di riuscire completamente in questa battaglia. Anzi, ho detto, noi abbiamo dei servizi come il pronto soccorso che vogliamo ancora potenziare, come è già stato fatto, e i servizi salvavita come quelli per esempio della cardiologia, che devono avere i livelli massimi. Poi vogliamo che tutto il resto funzioni bene, almeno come ora, e vogliamo che migliori anche la lista di attesa, nel senso che a questo punto come Comune abbiamo detto che siamo pronti a investire anche centinaia di migliaia di euro pubblici del Comune, visto che abbiamo queste risorse, per dare all'ospedale la possibilità di creare un punto di prelievo, un punto anche in città, quindi non fare arrivare tutto sull'ospedale. Questo noi vediamo come riforma sanitaria e non accettiamo la provocazione, la strumentalizzazione. Sembra quasi che qualcuno desidera che vada male. Vogliamo una rete che ci protegga tutti e su questo noi altri ci batteremo fino in fondo. Il sindaco poi mette in guarda i cittadini dai pericoli dell'uso strumentale che qualcuno sta facendo della questione sanitaria. Atteggiamento questo che gioca sui sentimenti e sui bisogni della popolazione. Noi cerchiamo di affrontare i problemi reali con senso di responsabilità e senza bandiere.